Un tema intorno a cui gira moltissimo il senso di questo piano è il tema del verde. Ma che cos'è il verde? Il verde è lo standard? Forse no, non abbastanza. È la natura, perché la natura non c'è. In realtà la natura sta distante chilometri e chilometri e forse non esiste più neanche, perché anche la natura che il mondo intero ha riservato sono riserve volontarie, ma in realtà anche questo è il prodotto di un progetto che può essere giusto o sbagliato. E quindi, voglio dire, quando si parla per esempio di parchi agricoli, bisogna pensare che non è il tema del parco naturale, a parte che appunto tutto c'è alle spalle, tutto il problema di che cosa sia la natura, ma è come un parco, come dire, un parco industriale, un parco ferroviario, solo che qui si produce, non acciai, ma si producono delle cose vegetali, quindi è un parco produttivo, quindi ha delle caratteristiche diverse. La parola parco ha sempre un'ambiguità, che vale sempre un pochino per questa ideologia da cui siamo un po' unico ideologia, perché c'è una parte di falsa coscienza in questo, in cui siamo un po' in questo momento sottoposti, che è quella, diciamo che la natura sia la felicità, che la natura sia la soluzione delle cose, ma è che la natura però purtroppo mi sembra che sia di risparizione. Poi giustissime sono le considerazioni che vengono fatte sulla città policentrica, mi sembra che questa sia assolutamente fondamentale. bisogna tenere conto di una cosa, noi abbiamo fatto un'esperienza col piano di Roma, col piano Vettroni, diciamo così, purtroppo non compiuta, ma insomma comunque un'esperienza importante dove il tema della policentricità era centrale, ma ovviamente la struttura di una città come quella di Roma, che ha uno di comuni forse più grande in tutta l'Europa, ma è molto diversa da quella di Milano, o come abbiamo fatto esperienza noi a Torino, dove al di là di una strada c'è un comune, sull'altra strada c'è un altro comune, e quindi il problema è, diciamo, della policentricità o si proietta al di là di tutto questo, non tenendo conto dei limiti, diciamo, del piano, oppure si riduce a una policentricità che è tutta interna, cercando di individuare, come anche il piano fa, diciamo, delle identità che sono delle identità all'interno e che hanno certe caratteristiche di personalità che credo che valga la pena effettivamente di mettere in evidenza.